E' passato esattamente un anno dallo scoppio della pandemia in Abruzzo con il primo caso di Covid accertato a Roseto. La notizia l'avevamo data in tempo reale nel corso della nostra rassegna stampa Mattino 6. Un uomo ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Mazzini di Teramo, il risultato positivo al primo test per il Covid-19, il coronavirus. Guardi, io ho la prima disposizione è quella di evitare gli assembramenti e le riunioni di persone, quindi sono riuscito, nonostante fossero le 7 e un quarto, a contattare immediatamente i dirigenti scolastici, a comunicare la mia intenzione di chiudere le scuole. Da allora oltre 50.000 persone hanno contratto l'infezione in Abruzzo e purtroppo oltre 1.200 pazienti non ce l'hanno fatta. Dall'analisi dei dati è interessante notare come nella prima ondata i casi complessivi furono appena 3.780, il 7% del totale, mentre il 93%, cioè 49.765 contagi, riguarda il periodo dal primo di settembre ad oggi. Questa discrepanza, oltre che per la differenza nell'arco temporale preso in esame, potrebbe essere anche spiegata con una maggiore contagiosità del virus nel frattempo mutato, ma anche con l'impreparazione diagnostica della prima fase della pandemia, quando l'apparato di analisi dei tamponi ne riusciva a processare solo alcune centinaia e solo molecolari. In questi mesi la morsa del coronavirus si è allentata solo in estate, quando contagio e decessi erano ridotti allo zero, merito anche dei quasi tre mesi di chiusura e clausura. Ma lo scotto di un'estate quasi normale, di festeggite fuori porta, di spiagge affollate, ristoranti e bar aperti che hanno dato respiro all'economia, si è pagato con gli interessi in autunno. A metà settembre infatti si è registrata la prima vittima e di lì in avanti i numeri sono cresciuti in maniera vertiginosa, complice anche la riapertura delle scuole. Il record assoluto di contagi registrati in un solo giorno c'è stato lo scorso 14 di novembre con 939 casi. Nella prima ondata il record fu appena di 160 casi il 29 di marzo. Sul fronte dei ricoveri il giorno più duro è stato il 30 novembre con 790 pazienti ospedalizzati. Per quanto riguarda le terapie intensive invece il dato più alto è di 78 unità e si è registrato ieri e martedì. Nella prima ondata il giorno più difficile in termini di pressione sugli ospedali è stato il 3 di aprile con 437 ricoveri, 76 dei quali in terapia intensiva. Oggi in ospedale ci sono 688 persone, 74 delle quali in rianimazione. Ma questa maggiore resilienza del sistema ospedaliero abruzzese è frutto anche degli adeguamenti che ci sono stati in questi mesi dal Covid Hospital di Pescara all'aumento dei posti in area medica e in terapia intensiva su tutte le asle. Oggi l'Abruzzo fa i conti con le varianti, in particolare quella inglese che sta martoriando l'area metropolitana. Diversi anche i casi di variante brasiliana, in particolare all'Aquila e nel Chietino. Qui la prima vittima a Francavilla al Mare, dove nei giorni scorsi è morto un 67enne di rientro dall'Umbria. Resta a questo punto l'incognita vaccini. La campagna è partita tra polemiche e ritardi, ma procede a fatica, anche per la scarsità delle dosi a disposizione. Affinché il prossimo 27 di febbraio, tutto questo sia un brutto ricordo o quasi, la via da percorrere e la speranza è soltanto una, che i vaccini diano la tanta agognata immunità di gregge e che si possa tornare ad una vita quasi normale, simile a quella che esisteva prima, del 27 febbraio del 2020.